Perché Antigone decide di dare un premio all'interno di un festival dedicato ai diritti umani? Perché ovviamente tanto più in un momento storico come questo è importante che ogni forma di arte dia il suo contributo allo sviluppo e alla promozione e alla protezione dei diritti fondamentali. Si può proteggere e promuovere un diritto per esempio in un'aula di giustizia ma si può farlo anche scrivendo un libro con un'opera d'arte con un movimento artistico facendo un film o girando un film. Ecco questo è il senso di questo premio che viene dato in questo bel festival. Perché il premio in questo caso abbiamo deciso di darlo allo straordinario film sulla mia pelle di Alessio Cremonini perché con rigore, delicatezza e una straordinaria sceneggiatura ha prodotto un risultato che non era prevedibile. Ossia decine di migliaia di giovani e di meno giovani che sono stati catturati in silenzio, in un silenzio tragico, in un silenzio preoccupato, in un silenzio empatico davanti ad un film il cui passare del tempo quei sette giorni infiniti producevano ansia. Il film non è un film militante, il film non è un film manifesto, è un film molto sobrio nella sua drammaticità, è un bel straordinario racconto, un racconto tragico di storia italiana che ovviamente grazie alla forza e alla determinazione di Ilaria Cucchi, di Fabio Anselmo, di tutta la famiglia di Ilaria ha una storia che è uscita fuori dalla opacità in cui invece tante altre storie simili purtroppo terminano. E quindi questo nostro premio è sia per il film, sia per il regista, per i suoi attori, ma anche per Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, perché i diritti umani hanno bisogno di testimoni e loro sono testimoni di diritti umani.